bad brother spam è brutta questa parata easy iniziamo con una grande parata eh no torniamo subito indietro prendo boost vado in mezzo vado in porta fuori danco perfetto alzo eh no devo tornare indietro ok questa è buona porca miseria easy easy parata mamma quanto sono forti in porte eh no non ce l'ho e questo è goal perché è bella giovi il mio compare è andato a raccogliere cavolfiori bank perfetto mia mente che fa push i wanna push it danco no che miseria va bene tua open ti prego godo 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 i wanna push it let's go bam non ho la bolla anche perché non lo so fare ok prendiamo tutto non farmi finte ok easy easy saltati due il problema è che non ho boost ma è goal mamma quanto forte pure senza boost il passaggio questo good pass oddio danco va bene più o meno attenzione torno giu aspettavo solo questo aspettavo solo il passaggio suo grazie caro sei stato molto gentile ahia vai jean billy jean tank prendo il busto e torno indietro godo si alza si immaginavo tutta tua tutta tua scegliamo un attimo vediamo come dunk per non ci credo tira brother ragazzi avevo fatto una roba ok torniamo su e non ce l'abbiamo si torna indietro non bambiamo il compare compare comparuzzo gta gioco di merda grand theft merda il titolo del gioco bravissimo ok iniziamo bene per ora vediamo come si comporterà il nostro compare fichiamo easy easy alzata teniamo indietro qui spawna easy mamma che letture e tu non vengo non vengo non vengo non vengo ok rimbalza alziamo palla e mezzo perfetta eh peccato che tu non ci sei non spawna vado indietro si alza ma si che si alza bam alziamola spiazzato alziamola in mezzo easy mamma che sfiga però nessun problema stiamo vincendo si alza la palla torniamo torniamo giù fichiamo andiamo al bump eh no devo tornare rapidamente indietro bella premise aspetta eh adesso ti eh non ce l'ho ma andate un mostro o non era goal non l'ho capita perché non gli ha dato la parata nooo no pensavo fossero esplosi volevo fare il coglione va bene easy che fai easy control alzati mamma mia guarda che passaggio millimetrico eh peccato che lui non ne approfitta ok mamma che tank perfetto prince mi devi ricordare il tuo rank prince let's go la tiene palla e mezzo oh gg però nooo vai ah limite tempo massimo 11 minuti quindi ci sono tipo 6 minuti di di recupero massimo danco vai tsm russia ok tolta non vado easy era goal me l'hai tolta capo mmm guarda che sfiga ok io sono senza boost in tutto questo la allunghiamo vediamo che combina torniamo indietro rapidamente bumpo 1 non è vero posso controllare allungare bumpare porca miseria di quanto di un pelo indietro ok tsm russia no sono partito troppo in ritardo non sarei nemmeno dovuto partire ok ci pensi tu? voilà bravissimo vai no così uh godo c'è stato proprio un babbo allunghiamo allunghiamo e torniamo indietro che non abbiamo boost ti prego godo messato tutta tua bravissimo gol gol prevedibile che culo che bisogna poi questo ha messato quindi direi perfetto mamma toccata malissimo dobbiamo tornare rapidamente indietro non so non pare è in più uh porca miseria la voltaccina è andato male per fortuna oddio palla allungata ok bumpiamo easy grazie vai alzala no l'hai tenuta sotto c'è un abbacchio ok tira oh che sfiga e devo gestirla un attimo perchè ok perfetta dicendo devo gestirla un attimo perchè lui era in porta rischiamamo una ripartenza fulmine oh fake porca miseria bravissimo bumpato tutta tua easy tira sulla macchina mannaggia a te non vado oddio bello giocare così c'è un buonissimo odore che sta salendo in camera mia non ho idea di cosa sia arato prendiamo il boost porca miseria torniamo indietro voilà gol non andiamo fakechiamo easy 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 moves ok stiamo dietro è facile nostra guarda no siamo troppo bassi vai tu vai tu ok questa dovrebbe essere tranquillamente nostra ci sei capo oh bella questa diretta in po' guarda sono una sega ragazzi sono una sega perché perché ho miscliccato e ho fatto il double jump e non ho fatto il oddio no non dirmelo per favore godo ho uscito ho fatto il double jump e non la capriola spiazzato ma non è gol palo mannaggia me oh oh oddio no bruttissimo mamma quanto son forte ho cambiato idea fake mamma mia quanto forte madonna ragazzi mamma mia ho cambiato idea all'ultimo